Continua il contrasto ai fenomeni illegali nel settore dei giochi da parte del gruppo della Guardia di Finanza di Eboli, questa volta nel territorio del comune di Battipaglia. I finanzieri ebolitani hanno individuato 5 apparecchi privi dei necessari nulla ossa di distribuzione messi in esercizio o non collegati alla rete statale di raccolta del gioco in un bar sito nel comune di Battipaglia. Gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro unitamente alla somma reperita e nei confronti del responsabile dell'esercizio commerciale sono state combinate a vario titolo sanzioni amministrative superiori a 100.000 euro.